Ciao, sono Bruceri Lorenzo e sono un ottico. Vi racconto a breve la mia esperienza. Allora, a dicembre saranno due anni in quale lavorerò qua, in questo negozio, esercitando la mia professione d'ottico. Conseguito il diploma all'Istituto Sebastiano Grandis di Cuneo, è un indirizzo per ottici ovviamente, mi sono abilitato due mesi dopo il diploma e due o tre mesi dopo ho trovato lavoro. Ok, quindi tutto nell'arco di un anno. Meno di un anno ovviamente. E voglio raccontarvi in breve cosa faccio. Sono un ottico, quindi esercito la mia professione, mi occupo quindi l'ambito sanitario, quindi a livello di controlli, controlli della vista, l'ambito invece commerciale, vendita di occhiale e mi occupo anche di contattologia. Posso consigliare a tutti questo indirizzo. È un indirizzo dove praticherete tante ore di laboratorio, imparerete bene la professione e avrete a disposizione quindi tante ore per esercitarvi. Di conseguenza farete tirocinio, avrete a disposizione anche degli ottimi laboratori dove riuscirete quindi a esercitarvi al meglio e avrete quindi diverse ore per imparare al meglio il tutto. Sulla base della mia esperienza personale posso solo che consigliarvi. In ambito formativo e lavorativo sono maturato notevolmente e quindi un consiglio a tutti di frequentare questo indirizzo. Se siete un minimo curiosi, fidatevi, fidatevi di me, andate a provare a fare questo indirizzo, non ve ne pentirete. Ok? Grazie mille, un saluto a tutti i miei futuri colleghi. Grazie mille, un saluto a tutti i miei futuri colleghi.